e i manoscritti, ed eccolo, il ministro D'Arnazio. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eminenze, decendenze reverentissime, grazie, grazie per averci accolto ed essere convenuti per questo evento inaugurale. Commitezza e semplicità di cuore Francesco D'Assisi ripete tramite me Deus Detetivi Paccia. Francesco, Francesco, Francesco è qui perché Francesco è qui eccezionalmente con tracce, parole e immagini testimoniali Egli non ha richieste da fare Essenzialmente Francesco ha la pace del cuore maturata grazie alla misericordia accolta, fatta, gustata e desidera incontrarvi e gioire per quanto Dio mostra ed opera attraverso ciascuno di voi. Francesco dice peace in his life this is why he would like to share with you every person that he would like to bestow upon you eat your work of living ma per capire fino in fondo la ragione di questo avvenimento straordinario può essere utile considerare come Francesco entra in questo prestigioso palazzo innanzitutto egli non ha insegnamenti da offrire non è un maestro he's not a teacher he's not doesn't want to teach us anything francesco piccolino è un uomo povero nudo al mondo ed entra qui con umiltà senza difese è un uomo espropriato cioè che ha rinunciato al proprio non ha dei privilegi o delle ragioni da accampare non ha cultura o tradizioni da difendere non ha possessi materiali ha vissuto senza nulla di proprio e così è totalmente disponibile ad una piena condivisione di vita di idee di beni del bene Francesco povero è libero libero da tutto fin anche dalla propria religione e così può lasciarsi amare accogliendo l'amore inmenso riversandogli del cuore da Dio stesso perché nessun uomo solo e muto è senza Dio poi francesco è libero di scorgere la presenza del bene intorno a sé nella natura nella natura che è profida se rispettata e servita Francesco è stato molto laborioso e delle persone che sanno amare seremmo aiutate a trar fuori la capacità del bene Francesco è libero per gli altri direi che egli ha maturato dentro di sé la ragione ultima che giustifica un'esistenza umana vivere tutto più della fraternità e che ha in essenza in essenza e che ha in essenza la possibilità di avere una completamente libera vita e che ha in essenza questa possibilità a tutti a chi lo incontra Francesco anche senza parole comunica questo riconosco che tu sei un dodo per me e con te voglio accrescere il bene I recognize success of each one of us that you are a gift for me this is why I might share with you whatever I am whatever I am mai come un priore ma sempre come fratello minore sottomesso a tutti never as a be proposing himself only as a brother that's submissive to everything Francesco c'è retanto un fondatore quanto fu tosto un custode dei fratelli che sa tenere insieme l'uguale e indiscutibile dignità di ciascuno con la differenza per la quale nessuno è uguale ormai è un fratello tra i fratelli e vuole lasciare liberi qualsiasi fratelli che ha in ogni uno dei fratelli anche se lui è in un conflitto tra i fratelli giusto e che ha servo dei fratelli dei quali non solo rispetta le differenze ma addirittura le promuove affinché ognuno possa esprimere il meglio di sé e dare il proprio contributo allo sviluppo in umanità della fraternità è un servizio di tutti per farlo farlo per farlo il nostro mondo francesco entra qui anche dietro è abitato da una gioia indistruttibile la gioia di nuovo che ha visto giugere al primo compimento il senso della vita e l'amore fraterno l'amore fraterno dilatato fino a includere tutto l'universo tutte le quali loro crede e l'amore e l'amore così anche la morte che è il momento in cui ciascun uomo rende conto a Dio e agli altri di sé è da lui compresa dell'amore non gli fa più paura da morte e il poverello di Assisi piccolino e libero muore cantando forse allora la ragione ultima di questo evento in un'epoca storica segnata da una profonda crisi in cui sempre più le vicende, i successi, i fallimenti di ogni popolo appartengono a tutti i popoli e la ragione ultima è da ricercarsi forse nei tratti di una umanità riconciliata e questo è il motivo che vi ricordiamo che il Francesco è pronto per riconciliare il tutto il mondo in una umanità riconciliata libera dieta umile rispettosa benevola generosa generosa compassionevole nasce è l'umanità di chi, come Francesco, ha assunto un punto di vista che si colloca al di là di ogni cultura e è anche al di là di ogni diritto perché questo punto di vista sta all'origine di tutto il resto che abbiamo detto è il punto di vista della fratellanza universale ecco credo sia giunto il tempo di cercare insieme i principi antropologici che accomodano tutti gli esseri umani e quali possiamo riconoscerci fratelli che cosa fa sì che io comprenda di trovarmi di fronte ad un essere un altro quali gli atteggiamenti e i comportamenti che mi attestano la dignità quali sentimenti che promuovano e realizzano l'uomo ecco sono alcune delle domande che il greco dovrebbe proporci insieme al fine di edificare una fraternità universale nella quale abbia uno stabile demore alla giustizia, la pace e il rispetto della condizione del greco del popolo grazie 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 Grazie.